ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi video domenicale per un semplice motivo che siccome domani c'è la carriera gara 2 che bisogna andare avanti col weekend della germania abbiamo una gara veloce cioè una gara non una gara veloce una gara 100% quindi tutti giri quindi domani ci sarà anziché due video un solo video cts giorno libero come venerdì poi per il resto alla settimana da martedì fino a venerdì con il fantacalcio martedì anche se la giornata finisce oggi il fantacalcio porto martedì perché due video uno già bello lungo 40 minuti 45 quindi capite bene e niente quindi ci vediamo domani alle 3 con la carriera con ritterberger speriamo che vada tutto bene ciao ci vediamo